Ciao! Oh, ciao! Sì, Sago! Che effetto ha fatto per che i poteri risolvi? Gli industriali, bene o male, poi, viciosamente, non si si devono fare. Non so, a me non mi hanno detto. No, non mi hanno detto, ma sì, sa. Ah, sì? Però no, vuol dire... Sempre nel tono di prima. Ma se noi ci vediamo e rappresenteremo tutti, voglio dire, tutte le forze in gioco all'interno di Parma. Ma, cioè, io l'ho già detto altre volte, non ho mai fatto una battaglia contro. Ho cercato di parlare con tutti quelli che ci hanno voluto parlare. Ho voluto spiegarci le loro istanze, le loro problematiche, cosa volevano di diverso rispetto a... Non è stato avvicinato da qualcuno di Pompidoro? No. Ma questi grossi miei professoroni che lei aveva fatto qualche giorno fa, dalla laurea di Napoleone, sono soltanto dei supporter esterni o verranno a Parma a fare qualcosa di più? Alcuni, a Parma, alcuni sono dei supporter, non esterni, perché poi detto supporter esterni, ci daranno il supporto della consulenza a livello di staff, però non entreranno in nessun ruolo. ... 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